Vi chiedo di accomodarvi in platea per le conclusioni affidate anche questa volta ad una donna, al Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che invito sul podio. Per noi, signor Ministro, è particolarmente importante la sua presenza perché suggella questa alleanza tra università, tra accademia e forze di polizia operative sul campo, che non sono chiamate soltanto a rispettare la legge, ma anche a offrire una risposta di qualità al cittadino, una risposta di sicurezza in termini di acquisizione delle migliori scienze e delle migliori tecnologie. A lei la parola. Grazie a tutti. Devo dire che è stato davvero interessante questa giornata sotto tutti i punti di vista. Mi è piaciuto molto anche l'intervento, l'Alexio Magistralis del Prefetto Rizzi e ringrazio la professoressa Giannini. E' davvero un grazie di cuore alla rettrice dell'università che ci ospita in questa sala davvero importante. Io l'ultima volta sono venuta quando c'era la senatrice Segre che abbiamo conferito, le abbiamo conferito un premio, c'era anche il Presidente della Repubblica. Quindi è un luogo, un'università importante, tra le più importanti d'Europa, ma questo in particolare è un luogo davvero simbolico di particolare rilevanza. Grazie al giornalista, alla dottoressa Sciarelli, c'è un po' di competizione con le forze di Polizia, però ognuno ovviamente ha il suo ruolo, ma la collaborazione io vedo che non manca mai. Certamente questo libro, Investigare 4.0, quando il Prefetto Rizzi mi ha chiesto se avevo piacere a intervenire, io immediatamente ho dato la mia adesione, proprio perché credo che sia questo il senso del volume, e ringrazio anche i 27, perché ho sentito che sono 27 autori, esperti, che hanno lavorato a questo libro, quindi dando davvero il senso della squadra nel portare avanti quello che è un viaggio nel mondo delle indagini. E anche la capacità concreta dell'amministrazione e dell'interno di essere sempre al passo con i tempi, in materie complicate, quali quelle della criminologia, della criminalistica, e quindi che rappresentano poi un pilastro fondamentale dell'attività della Polizia di Stato e che ovviamente sono soggette a evoluzioni nel corso degli anni e tanto è stato fatto anche di recente. Il valore aggiunto quindi è proprio nell'aver coniugato un approccio propriamente pragmatico con un'azione quotidiana sul campo di quelle che sono le attività che vengono poste in essere, quindi nuove regole che vengono poi utilizzate, adeguandole alle normative, adeguandole a quelle che sono poi in effetti le attività che mettono in campo le forze di polizia. E quindi un grazie al Prefetto Rizzi nell'aver illustrato questo mondo delle indagini, un mondo complesso, difficile. E io vedo qua un'aula che, nonostante quest'aula magna, nonostante i posti limitati causa Covid, però è una, con tanti partecipanti, perché evidentemente è un tema che attira, perché gli argomenti sono vari e sono di attualità, perché se pensiamo a quello che ci ha detto la giornalista Sciarelli, anche l'ultimo caso, ma ce ne sarebbero tanti che vengono portati, ecco, anche all'attenzione dei media, proprio tramite le trasmissioni televisive. Quindi io poi, un'altra cosa, che è quello che ho detto anche appena arrivata qui alla professoressa Polimeni, quello che trovo molto importante è questo osmosi tra università, docenti e insieme anche alla Polizia di Stato. Non è la prima manifestazione a cui partecipiamo, perché la professoressa Polimeni è venuta anche da noi alla scuola a fare la produzione proprio per l'anno accademico. Quindi, secondo me, questa osmosi di esperienza, da un lato la parte accademica, dall'altra parte la parte più concreta e operativa, non può che essere un aspetto positivo. Quindi, io vorrei dire che il tema della violenza oggi più che mai è considerato, diciamo, importante, perché vi sono alcune tipologie di aggressione che resistono oltre ogni forma di evoluzione, ogni forma di modernità. Il riferimento è alla violenza che viene perpetrata nei confronti dei minori, per esempio, lo diceva il prefetto Rizzi prima, persone che sono in condizioni di fragilità o minoranze, la violenza domestica o di genere, oggetto anche di un intervento normativo, il cosiddetto codice rosso. Vorrei dire, per quanto riguarda YouPoll, anch'io l'ho molto pubblicizzato come approccio immediato di intervento, quindi ritengo sbagliato questo titolo che è stato fatto, perché è un modo per collegare direttamente le persone che sono in particolari momenti di fragilità, e parlo delle donne, ma parlo anche dei minori, tenete conto che in questo periodo di Covid quanta gente, siamo stati tutti in casa, tutti bloccati, e quanta gente ha dovuto vivere anche per un mese in appartamenti piccoli, quindi la violenza che tante volte sottotraccia ha preso più vigore. YouPoll consentiva immediatamente di avere un collegamento diretto con l'ufficio di polizia più vicino, proprio per un intervento immediato e per evitare conseguenze peggiori. Quindi, io, altra cosa che vorrei dire è anche la presa di coscienza delle vittime di violenza, perché nel momento in cui ci sta una presa di coscienza c'è anche la volontà di intraprendere un nuovo percorso di vita. Io penso soprattutto ai giovani che spesso, purtroppo, incappano in questo tipo di crimine odioso. Quindi, la figura della vittima è vero, probabilmente prima non se ne teneva conto, tanto è vero che abbiamo detto che una volta sola viene parlato di vittima, non mi ricordo quante volte, ma tante la parola magistrato. Invece, bisogna avere una particolare attenzione per le vittime e qua ci vogliono delle politiche pubbliche che siano adeguate a quelli che sono i tempi d'oggi. Questo rappresenta anche un modo di rappresentare la civiltà di uno Stato che cura in particolare le persone offese e quindi che fino ad ora spesso hanno avuto una scarsa attenzione. Quindi, una delle maggiori attitudini anche riconosciute alla Polizia di Stato è quella dell'ascolto. E' sempre, non è cosa di ora, perché considerate che la Polizia di Stato ha, e come le altre forze di Polizia, ma adesso stiamo parlando di quello che avviene nell'ambito nostro, sono abituati a raccogliere quelle che sono le necessità rappresentate dai singoli, anticipare anche i segnali di possibili criticità. Proprio, ed è importante, che cosa? Creare un rapporto di fiducia tra le forze di Polizia e le vittime. E allora, per tale motivo, io considero di particolare importanza il progetto Chironte, che è messo a punto dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, unitamente alla professoressa Giannini, che sempre ringrazio, che ha permesso anche la definizione di standard formative per il personale della Polizia di Stato nella gestione proprio del rapporto della vittima. Parliamo, parlavamo prima degli incidenti stradali, è stato evocato questo tema più volte da più relatori, ed è verissimo, questo è un altro argomento di particolare importanza, su cui occorre lavorare, perché pensiamo ai tanti giovani che fanno uso di alcol e che tante volte si mettono sulle strade ad alta velocità ed è assolutamente, causando poi anche tragici eventi. E così parliamo delle persone scomparse. Noi sapete che come Ministero dell'Interno abbiamo proprio un commissario per le persone scomparse, supportato dalle forze di Polizia, con dei programmi immediati sul territorio per cercare di individuare il percorso che questa persona, che non viene rintracciata nell'immediatezza, il percorso che eventualmente ha fatto per trovare anche delle piccole tracce. Sì, è vero, 48 ore sono troppe, perché se io penso a un malato di Alzheimer sono i primi momenti che sono difficili, perché immediatamente poi si entra in un sistema di... già sono disorientati, trovandosi soli, quindi è difficile poi riprendere la strada iniziale, quindi con il rischio davvero che poi non vengano trovati in vita. Quindi pensiamo anche al caso della Polizia Postale, che è un'altra eccellenza della nostra Polizia di Stato, perché fino a qualche tempo fa non c'era una piena consapevolezza di un processo, anche per quanto riguarda gli aspetti informatici, che in questo periodo di Covid ulteriormente sono stati segnalati, tant'è che noi abbiamo iniziato fin dal 2005 con l'istituzione del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la protezione delle infrastrutture critiche. E devo dire che anche come Ministero, proprio di recente, è passato in Consiglio dei Ministri un provvedimento con il quale noi abbiamo istituito una direzione centrale per la cyber proprio relativamente all'incremento notevolissimo dei reati che abbiamo riscontrato in questo periodo. Quindi questo vuol dire essere anche al passo coi tempi, quindi viaggio nel mondo delle indagini, vuol dire anche viaggio nel mondo del cyber, nel mondo di tutto ciò che può essere rendere più facili il sistema delle indagini che attualmente sono posti in essere. Quindi dicevo anche che pensiamo anche agli inizi degli anni 90, in cui il padre della polizia scientifica, che ancora viene richiamato agli atti anche nello stesso libro, il professor Ottolenghi, avvalendosi proprio della professionalità dei funzionari di polizia, ha amplificato le potenzialità del ritratto parlante. In effetti quando io ho letto nel libro il ritratto parlante mi sono fatta, ho pensato, ma che vuol dire esattamente ritratto parlante? Perché fino a prima che cosa si guardava? Quando c'era una vittima si guardavano quelli che erano gli aspetti più propriamente tecnici, le misurazioni corporee, invece poi si è cominciato ad andare oltre quelli che erano i semplici sopralluoghi che venivano fatti nei luoghi incriminati e quindi si è cercato di ricostruire quella che era la scena del crimine, di andare più intorno e dentro la vita della persona. E quindi questo secondo me ha creato anche un andare avanti e aprire delle prospettive diverse, anche nel senso delle indagini, proprio perché oggi ovviamente siamo avvantaggiati con tutte le potenzialità del web che abbiamo e delle nuove tecnologie. Vorrei poi fare un riferimento per ultimo anche al giornalismo investigativo, proprio perché abbiamo qui la dottoressa Sciarelli, che c'è un capitolo ad hoc dedicato proprio per il ruolo anche importante assunto nelle informazioni, come informazioni di interesse pubblico. In effetti, se ricordiamo tutti noi, quando parliamo di Federico Caffè, ognuno di noi non si rende ancora conto com'è che a distanza di tanti anni, poiché era una grandissima personalità, che è stato maestro di tanti, dei grandi anche di oggi, allora noi pensiamo, ma oggi, se fosse successo oggi, il tipo di indagini che sarebbero state portate avanti avrebbero consentito un accertamento più immediato, perché guardate che anche per una famiglia che tu scompari e non se ne sa più nulla, che non hai neanche tu dove poter andare a pregare, io dico, deve essere veramente terribile e purtroppo questo capitava, ma ora, secondo me, con queste nuove tecniche investigative, secondo me sarà sempre più difficile, perché ci sono dei sistemi, una tecnologia che ci consente di andare certamente più dritti allo scopo. Con il Capo della Polizia, con il Prefetto Rizzi, stiamo anche lavorando con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, la Federazione Nazionale della Stampa, proprio per prevenire e anche contrastare un altro fenomeno odioso, che è quello degli atti intimidatori nei confronti dei rappresentanti della stampa. Noi facciamo spesso degli incontri, anzi, abbiamo organizzato anche un approccio differente, non soltanto gli incontri da Roma, dal Viminale, ma facciamo anche degli incontri dedicati a seconda di dove scrivono i giornalisti, nelle varie prefetture, con il Prefetto Rizzi e ovviamente il Capo della Polizia. Quindi cerchiamo di seguire con molta attenzione, perché l'importante è che tutte le categorie debbano sempre sentire che le forze di polizia sono con loro, che le forze di polizia lavorano per migliorare quelle che sono le attività che quotidianamente vengono portate avanti, perché è importante il continuo sviluppo dei sistemi investigativi, affinamento delle professionalità e delle tecniche, in modo da corrispondere sempre con maggiore efficacia e maggiore tempestività alle sfide della sicurezza del domani. Allora se qua siamo già, se è un'utopia o se siamo già nella storia, non mi spingerei a dire che siamo già nella storia, ma ci stiamo arrivando lentamente, ma con grande realismo devo dire che tanto abbiamo fatto e tanto dobbiamo come ringraziamenti a tutti coloro che operano in quest'ambito, dalle forze di polizia ai giornalisti, alla società civile, perché quello che è importante è che anche la società civile deve avere uno scatto d'orgoglio e partecipare anche al sistema della sicurezza. Questo solo vuol dire avere una sicurezza partecipata, dove tutti noi lavoriamo per lo stesso scopo, per avere un Paese più sicuro. Grazie. 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 Grazie.